Ciao, ciao a tutti, bentornati, bentrovati o benvenuti sul canale. È un po' che non ci vediamo, ma sapete che l'estate per me è sempre un momento così dove sto abbastanza lontana dai social perché le iniziative intorno a me sono tante e sono spesso fuori casa, ma mi piace anche dedicarmi un po' di più alla mia creatività. La mia creatività durante l'estate esce in maniera molto prepotente perché comincio a pensare a dei nuovi progetti per il gruppo missionario, a cosa mi piacerebbe fare per Natale, puntualmente non riesco mai a rispettare nessun tipo di programma perché io progetto progetto ma poi alla fine cambio sempre, ma siccome sono una creativa disorganizzata e disordinata questo mi ha permesso e quindi oggi sono qua proprio per un video creativo, un video creativo che magari è un po' diverso dal solito perché ho preso in mano uncinetto e punto croce dopo tantissimo tantissimo tempo e mi stanno dando una grande soddisfazione. Anzi, per il punto croce mi sono dimenticata di farvi vedere un aggeggino molto utile, ma poi quando arriveremo a parlare di punto croce ve lo mostrerò. Spero stiate tutti bene, magari qualcuno è già in vacanza, fortunato lui o fortunata lei, perché quest'anno le nostre vacanze saranno un po' diverse dal solito perché per una nostra scelta di stare più vicino alle nonne che sono anziane, hanno avuto qualche problema di salute, non andremo con il solito gruppo di famiglie con il quale andiamo da tantissimi anni, ma la vita è anche questo, a volte è proprio così, fare delle scelte in base anche a quelle che sono le situazioni della vita. Ma probabilmente, non siamo ancora sicuri, andremo da Pietro, andremo su Avico, ci porteremo la nonna Rini che non vede l'ora e quindi sicuramente sta benissimo perché deve andare da Pietro. Pietro ha già preparato i menù che la nonna dovrebbe preparargli perché affronteranno un grande passo, hanno acquistato Federica una casa proprio nel paese di Vico, lì si dovranno trasferire, è una casa grande dove ci sono delle stalle, dove ci sono dei terreni, quindi inizia un po' dal vero questa nuova esperienza di azienda agricola e di vita in comune in maniera seria e pensata e quindi magari andremo a dargli una mano per fare il trasloco o comunque, insomma, vediamo, saremo un po', saranno delle vacanze diverse dal solito ma sicuramente molto molto belle. E' tantissimo che non pubblico un video creativo, come ogni volta vi dico che non ho abbandonato la skin care, non ho abbandonato i miei acquisti di detersivi, cose varie, non ho abbandonato i miei profumi, continuo sempre con le mie passioni ma a volte alcune passioni escono così in maniera più forte delle altre e io, da buona creativa quale sono, seguo sempre il mio cuore creativo e quindi almeno per la creatività, almeno per le mie passioni che sono così da al di fuori della famiglia, dei miei impegni, cerco sempre di assecondare, quindi se ho voglia di leggere leggo, se ho voglia di ricamare ricamo, se ho voglia di lavorare all'uncinetto o a maglia lo faccio e qui vedete un po' il riassunto di tutte queste cose. Ma partiamo subito perché ho davvero tante cose da raccontarvi, poi sono sicura che mi perderò in chiacchiere come sempre mi succede e quindi iniziamo dal primo ed unico progetto a maglia finito. Ho finito finalmente, già da un po' di tempo, la copertina che ho realizzato per Mattias, Mattias è il terzo bimbo di una coppia giovane, cilena, che è venuta in Italia per lavoro e quindi, niente, è nato a maggio ma io sono arrivata un po' più tardi a finirlo, poi vabbè c'è stato caldo, c'è stato freddo, è comunque una copertina che va bene per tanto tempo, non è che è solo per quando un bimbo o una bimba nascono e finalmente l'ho finita, sono davvero molto molto soddisfatta, mi è piaciuta tantissimo, eccola qui, la Chevron Baby Blanket, guardate che bella, con tutti questi colori che ho scelto, si sa mai che dopo il terzo figlio ne arrivi qualcun altro e magari anche una femminuccia, può andar bene per tutti. Allora, è una copertina davvero molto 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 semplice, il modello è questo, di Espestrico, come vi ho detto appunto è la Chevron Baby Blanket, lo trovate su Raverly gratuitamente, spiegato molto bene, scritto in inglese ma una volta che voi imparate appunto la sequenza, lo fate davvero ad occhi chiusi, se ce l'ho fatta io, che non so l'inglese, ce la fanno tutti, mi è piaciuta tantissimo, mi è piaciuta tantissimo, questo filato per me è meraviglioso, davvero, molto leggero, molto morbido, poi scende velocemente perché l'ho lavorata, aspettate che, io l'ho realizzata con questo filato che è il Desi della Drops, 100% extra fine lana di merino, davvero bellissimo, ritorto bene, come vedete le maglie sono molto precise e non è perché io sono brava, c'è proprio un bellissimo filato e l'ho eseguito con degli aghi del 4,5, quindi un progetto semplice che vi dà soddisfazione, che vi permette di guardare la televisione, di ascoltare un podcast, di ascoltare la musica, bellissimo, bellissimo, c'è appunto questa sequenza di gettati che danno un traforato e poi invece queste diminuzioni che fanno questa colonnina, come vedete, bella, 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 qui in fondo ci ho messo ovviamente la mia etichettina, disordine creativo, e domani gliela regalerò perché ci troveremo per salutarli, loro purtroppo per noi, vabbè, anche per loro perché sono molto dispiaciuti, ritorneranno in Cile a fine agosto perché comunque non è riuscito a trovare il marito in una situazione lavorativa che comunque gli permettesse di rimanere qui in Italia, lui è venuto per fare un master e una laurea per il suo lavoro, è un designer di interni, e quindi niente, ritorneranno, ritorneranno là, poi giustamente hanno le loro famiglie, con tre bambini piccolini qui è abbastanza faticoso senza avere nessuno che ti aiuti in maniera costante, il nostro aiuto è sempre stato poco in confronto a quello che loro hanno bisogno perché giustamente anche noi lavoriamo, abbiamo le nostre famiglie, abbiamo le nostre vite, ci sono stati anche dei momenti abbastanza difficoltosi anche per noi, ci spiace davvero tanto, per noi sono come dei figli e dei nipoti, speriamo ci sia in futuro l'occasione di rincontrarci ancora, chissà mai, magari noi andare da loro o loro magari ritorneranno in Italia, sono giovani quindi il mondo offre tutto a loro, a noi un po' meno, però chissà, non si può mai sapere e quindi domani faremo una cena con tutti gli amici del coro, della parrocchia per salutarli perché poi tanti andranno in vacanza e potremo così dargli i nostri regali e questo è il mio regalo, insomma questa copertina che gli ricorderà che una quasi nonna ha lavorato per Mattias con tanto amore e con tanto affetto e questo è l'unico progetto finito di maglia, gli altri sono rimasti esattamente dove erano, quindi lo chalet rosé di Valentina Cosciani è rimasto lì e anche l'altro modello di cui adesso non mi ricordo manco il nome è rimasto fermo, è rimasto fermo perché ci sono stati poi così nuovi amori, nuovi amori. Allora questo lo mettiamo via e passiamo al secondo progettino finito che è questa bustina all'uncinetto, l'avevo vista da Simona di Pensieri e Pasticci, avevo pensato che poteva essere un'idea carina per il gruppo missionario ma c'è dietro troppo lavoro o almeno io non sono un'esperta di uncinetto, non sono un'esperta di nulla ma soprattutto per l'uncinetto sono molto molto basica. È molto semplice da realizzare, non è tanto il lavoro dell'uncinetto ma è il lavoro poi di fermare tutto e di foderare tutto. non mi piaceva tra l'altro che appunto con il punto grenni come è stata fatta la mattonella si vedesse l'interno quindi l'ho foderata con una stoffettina così che ho fermato con questo filo che è un filo da macchina che dà una bobina per cucire a macchina che è sottilissimo, trasparente ma non vi dico, c'è una fatica, una fatica a foderarla perché ho fatto la doppia fodera che si vede sia qui che comunque anche qui perché non mi piaceva che si vedesse soltanto il bianco vabbè io poi sono un po' pignoletta anche se non è preciso il lavoro e lo riconosco ma questo lo terrò per me ma sicuramente non è un articolo anche perché a cosa potrei venderlo non è un articolo che secondo me potrebbe essere funzionale per la vendita del nostro gruppo missionario anche se vi dico che comunque mi piace, è proprio molto carino poi in questi colori così verde e azzurro con la foderina il bottoncino azzurro in tinta ma questo vabbè lo terrò per me o comunque ne farò degli altri da regalare può servire come portatessere può servire come portacuffie dell'iPhone o dell'iPad può essere un portamonete da buttare in una borsa veloce quando si riesce a fare la spesa all'ultimo minuto però ecco non volevo farlo appunto come progetto per il gruppo missionario ma no è troppo lungo è troppo lungo c'è dietro tanto lavoro e per le persone che ricercano sempre qualcosa di veloce che costi poco questo non lo posso certo far pagare 20 euro quindi lo terrò per me mi è piaciuto farlo e ne farò magari degli altri da regalare a degli amici o delle amiche ma non per il gruppo missionario cosa invece che ho trovato utilissima ah ecco mi sono dimenticata vedete già non sono abituata a fare più i video e allora siccome io ho bisogno appunto di un tutorial questa bustina l'ho trovata su un canale poi vi lascio ovviamente tutto in infobox l'ho trovata su un canale che si chiama Odri Studio e spiega passo passo veramente non so se è in spagnolo o se è in inglese comunque ci sono le diciture in inglese per i punti che vabbè è punto alto e catenella non è che ne abbiamo tantissimi e anche per le rifiniture per cucire è spiegato veramente molto 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 bene questo cotone che ho usato è della Drops sempre è il Safran che mi piace tantissimo è un 100% cotone è un cotone davvero meraviglioso scorre benissimo ha una bella tenuta di punto e li ho lavorati con l'uncinetto del 3 articolo invece che sicuramente andrà per il gruppo missionario guardate qua quante ne ho fatte e ne ho già finite altre due e qui c'è quella invece che vi farò vedere che è stato il prototipo dell'articolo che vorremmo proporre è un porta sapone da doccia molto molto carino tra l'altro questa saponetta che ho comprato è gigantesca ma vabbè era solo per capire se ci stava dentro bene oppure no ho trovato il tutorial di questa meravigliosa sacchettina aspettate che me lo sono segnato su Manu and Made che è un canale in italiano youtube che fa delle cose questa ragazza davvero molto molto carine spiegato perfettamente davvero benissimo piacevolissimo da ascoltare e ne ho realizzati davvero tanti ho fatto il cordoncino che poi si appende e questa è sia una sacchettina per riporre il sapone o eventualmente un detergente solido che adesso appunto ce n'è sempre di più o uno shampoo solido quello che interessa a voi ma poi bagnata e lasciando dentro la saponetta può diventare anche una spugna un leggero scrub perché questo è il cotone 100% ed è sempre il safran della Drops io ne ho di tantissimi colori adesso proprio li sto utilizzando tutti e quindi potrebbe essere appunto un regalo piacevole carino, ecologico magari se poi ci mettiamo sappiamo che abbiamo degli amici o delle amiche che sono vegane dei saponi appositi degli shampoo solidi se abbiamo appunto amici che utilizzano questi prodotti e quindi la trovo davvero un'idea molto carina e perché no molto sfruttabile allora con questo modello ne ho fatti un bel po' alcuni li ho anche regalati alla Federica la fidanzata del Pietro e ne ho fatti verde l'ho fatto azzurro l'ho fatto verde un verde più non verde prato e l'ho fatto color nocciola poi siccome la Eli quando fa la stessa cosa per tanto tempo un po' si stufa se ne è inventata un modello ho dovuto studiarci su un pochettino niente di eclatante ma se questo magari lo possiamo pensare come un modello più frufru più dedicato magari a una donna o a una ragazzina perché no per il nostro compagno marito fidanzato tutto quello che volete un modello che è meno arzigogolato perché poi magari gli uomini qua si devono già tirare il il laccetto e poi magari farci su anche il nodino perdono troppo tempo e non si lavano diciamocelo e invece questo rimane proprio ho fatto una una catenella poi l'ho fissata alla fine quando ho proprio finito la serie di punti alti e punti bassi e ho usato questo motivo di tre scusate quattro colonnine di punto alto che si innescano man mano tra di loro magari posso anche farvi un tutorial non sono capace ma chi lo sa ditemi voi se vi potrebbe interessare il tutorial di questo sacchettino cercherò di fare del mio meglio e appunto ho detto ma perché no magari fare la coppia per lei per lui you and me magari chiamarla e si possono comprare sia singolarmente ma anche in coppia mi piace tantissimo è un lavoro che se fatto seduta senza interruzioni in un'oretta fate lo fate ad occhi chiusi io in queste sere quando il caldo comincia a farsi sentire che non riesco ad ascoltare i podcast con le mie cuffettone ma ascolto la musica ascolto la televisione viene giù che è una meraviglia penso sia un'idea davvero carina anche venduti in coppia o comunque singolarmente e sono perfetti proprio anche per chi ha le prime armi perché io mi considero davvero molto molto basica nell'uncinetto vi ripeto non che io sia esperta in tutto il resto e poi ho pensato facciamo anche una piccola fascettina per dire un po' che cos'è questa cosa e allora qua qua c'è il primo prototipo che ho creato e che verrà poi inserita così sulla e fa anche una discreta figura insomma dai diciamocelo guardate che carino con la fascettina dove c'è soup saver salva saponetta porta saponetta 100% cotone e qui a lato ho messo la descrizione sacchetto porta sapone realizzato a mano in fibra di cotone 100% si può appendere nel box doccia ed essere utilizzato come una spugna che massaggiata sul corpo ha un'azione leggermente sfogliante penso sia carino poi qui ci metteremo il nostro timbrino del gruppo missionario e come pensierino per Natale magari alle colleghe magari agli amici magari alla vicina di casa per me è un'ottima idea sono contentissima e questo sarà uno dei lavori che mi porterò la settimana prossima quando andrò a fare il mio turno di cuoca in campeggio con altri amici penso sarà un'estate dedicata appunto al punto croce e all'uncinetto la maglia al momento la lasciamo lì dove perché poi non amo utilizzare tanto il cotone amo utilizzare la lana per lavorare a maglia però fa caldo fa caldo e quindi niente poi questi appunto devo farne un bel po' perché almeno una ventina 20-30 da vendere ci stanno e quindi niente questi sono stati i miei progetti finiti poi che altro vi devo raccontare di progetti finiti ah no ho il punto croce ma ve lo faccio vedere dopo di progetti all'uncinetto anche qui sempre per il gruppo missionario ho questo cotone che mi fa non posso dire la parola ma non mi piace proprio è il drops della drops questo proprio non mi è piaciuto non mi è piaciuto si sfila tutto non è ritorto non riesco a lavorarlo ho provato a lavorarlo la maglia le punte si incastrano nel filo è un rebelotto e allora ho detto ma fammi provare a fare qualcosa vediamo cosa viene fuori ho fatto semplicemente un rettangolo come vedete un rettangolo con questa mattonella e vi dirò che l'effetto non mi dispiace affatto perché comunque il punto viene bello regolare mi piace l'effetto che è abbastanza spesso e quindi non ha bisogno della doppia fodera e poi cosa faccio cosa faccio cosa faccio cos'è caduto non lo so ho detto ma una pochettina potrebbe essere sì oppure anche un portalibro o una borsettina la mia amica Betta con il quale mi sono confrontata è sempre bello avere delle amiche creative delle amiche in generale perché io e lei ci confrontiamo su tutto ma poi facendogli vedere appunto questo mio progetto lei mi dice ma sai che sarebbe carina anche soltanto non come borsetta ma fare una piccola pochettina una piccola bustina diciamo che possa contenere qualcosa e io mi sono detta ma cosa potrebbe contenere potrebbe magari contenere un libro e allora tra le mie stoffine ma guardate se non è giusta per questa tonalità di azzurro cioè è identica questa è una stoffetta tilda io amo tilda alla follia ho quasi tutte le collezioni mi piace tantissimo e ho pensato se io la fodero all'interno e poi magari qua in alto ci faccio proprio due manichini due come si due due manici sì due manici ok non taglierò perché qua tanto lo sapete che poi il tempo è quello che due manici con questa stoffettina che secondo me ci sta da dio potrebbe essere anzi due manici così cosa sto dicendo vediamo un po' cosa viene una perfetta busta porta libro e questa sicuramente potrebbe essere molto più veloce allora si fa veramente velocissimo a fare questo questo progetto perché il cotone è molto grosso adesso non ce l'ho qua ma io l'ho lavorato con l'uncinetto del 5 quindi scende scende velocemente poi una volta anche qua che la sequenza è è imparata si va via velocemente e poi qui ho continuato con del punto basso fino ad un'altezza che mi permetteva poi di fare un piccolo bordino sopra così e adesso studierò vedrò come come verrà quindi quest'estate proverò a fare qualche prova e vediamo se viene carina secondo me questi potrebbero essere delle bustine non tante magari farne 4 o 5 con appunto dentro magari un libro o anche soltanto un pacchetto di biscotti o delle caramelle o tutto quello che noi vorremmo regalare poi ognuno utilizza la bustina come vuole ecco e questo è un altro progetto quasi finito poi sempre all'uncinetto vi ricordate che vi avevo detto che volevo fare il Maratea Hat e ci sto provando questo è un altro progetto trovato su Raverly ed è gratuito e lo sto facendo eccolo qua adesso vi tolgo questo è il mio cerchio quasi perfetto anche perché con la fettuccia questa è una fettuccia particolare una fettuccia che sto lavorando con l'uncinetto del 5 anche se non sembra rimane rimane ben rigida anche se è una bellissima fettuccia ed è una fettuccia che ho comprato su Tessiland e si chiama Pandoro se non ricordo male ma anche qua poi vi metto tutto ed è una fettuccia però piattina vedete non è molto grossa io ho sempre visto la fettuccia quella che è realizzata con la maglia elastica delle magliette praticamente che è sempre quella che ho visto utilizzare nelle borse anche se non le ho mai fatte e invece quando ho visto questa fettuccia ho detto ma fammi provare e quindi l'ho acquistata l'ho presa così e l'ho presa azzurra e adesso è arrivato qui qua mi si è disfatto perché quando ho tirato fuori comunque questo è il punto da cui ho smesso di fare gli aumenti e qui adesso andrò avanti in circolo fino all'altezza che io vorrò quando poi sarà indossato e poi farò il pezzo del bordo finale con gli aumenti quindi anche questo è un progetto che probabilmente mi porterò la settimana in campiggio e diciamo che come uncinetto e maglia non ho più nulla da farvi vedere ma è caduto tutto ma adesso interrompo due minuti per andare a prendervi l'oggetto miracoloso che mi ha permesso di ritornare a ricamare al punto croce torno subito eccomi qui sono tornata allora l'oggetto che mi ha fatto ritornare al punto croce sono stati questi occhiali con lenti di ingrandimento allora me li ha consigliati la mia amica Antonella del canale fare e disfare e la voglia per rimettere le mani sui fili mi è proprio tornata guardando un suo video meraviglioso che vi lascerò nell'info box dove lei ha mostrato tutti i suoi ricami a punto croce tantissimi e meravigliosi e io mi sono detta ma caspita abbiamo un dono nelle mani perché non riprendere in mano a ricamare mi è sempre piaciuto e nella mia vita io ho ricamato davvero tantissimo ma proprio tanto ho cominciato a ricamare che avevo 12 anni 10-12 anni grazie alla mia vicina di casa la signora Silvia che con i kit di consigli pratici mi ha insegnato a ricamare a punto croce poi ho fatto anche dei corsi per ricamo classico e mi piace tanto anche quello pensate che la mia nonna era una ricamatrice io non ho mai 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 voluto imparare poi vabbè lei è morta che io ero ancora piccola avevo 13 anni quindi non mi era ancora scattata un po' la vena la vena creativa no? e ho ricamato tanto sia su commissione che no quando i miei bambini erano piccoli ho fatto un corso di ricamo condominiale tutte le ragazze che abitavano nel condominio erano più o meno della mia età aspettavano tutti un bambino e quindi alla sera una sera settimana ci trovavamo nel mio salotto i miei bambini erano bravissimi Mattia e Pietro dormivano perché loro alle 8 erano già a letto e non si sono mai svegliati e io ho insegnato loro a ricamare sulle salviettine per fare delle bavette delle bavaglie oppure delle copertine anzi nel prossimo video vi farò vedere l'unica cosa che ho tenuto ricamata da me che è una copertina che ho fatto per Mattia che poi hanno utilizzato tutti i miei figli i figli delle mie cugine che però mi sono fatta ridare da mia cugina perché quello è stato veramente un lavoro lunghissimo e poi ci sono particolarmente affezionata tutte le altre cose sono andate poi rovinate bavagline salviettine i sacchetti dell'asilo i green violini insomma tutte queste cose poi si sono si sono rotte si sono rovinate perché sono state usate tantissimo da più e più persone ma va bene così insomma invece la copertina quella ho voluto ho voluto riaverla indietro proprio come ricordo del mio lavoro poi ho smesso di lavorare su commissione perché come in tutti i campi i lavori manuali non sono giustamente retribuiti e siccome adesso il tempo chiaramente è meno ma anche è cambiato lo spirito lo faccio per me lo faccio per fare dei regali alle persone a cui voglio particolarmente bene e che capiscono il lavoro che c'è dietro a un lavoro manuale quindi se io so che a una mia amica piace un maglione uno scialle lo faccio volentieri e glielo regalo so che c'è dietro tanto lavoro che c'è dietro tanto amore nel fare quell'articolo ma dentro quel filo c'è una parte di me e io la voglio regalare a quella persona lavorare su commissione non lo farei non lo farei veramente più non lo farei più l'ho fatto da giovane per arrotondare le mie entrate l'ho fatto da giovane mamma ma adesso non lo farei non lo farei più davvero e quindi niente proprio grazie ad Antonella sono ritornata al punto croce grazie Anto perché noi ci siamo proprio conosciute tantissimi anni fa su facebook e col blog grazie al punto croce poi ci siamo persi di vista per qualche anno ci siamo ritrovate in questi ultimi anni con i canali di youtube e questo filo di ricamo insomma ci ha tenute legate per tutti questi anni e vi stavo dicendo guardando proprio le sue meravigliose creazioni mi è ritornata la voglia i miei lavori però sono sempre molto piccoli perché io sono una persona che si stanca si stanca a fare sempre la stessa cosa e a fare dei oggetti grandi lei ha fatto di quei sampler che sono meravigliosi e allora ho deciso di ricominciare una volta avevo la fissa del punto croce con il retro perfetto e lì ho fatto tante di quelle cose ho fatto la scuola di Rackham che ai tempi era la rivista del mio cuore e ne ho ancora tantissime annate in soffitta perché era uno dei giornali creativi più belli e più raffinati secondo me dal punto di vista della creatività italiana ultimamente ho provato a ricomprare due numeri ma non mi piace più non mi piace più mi tengo ben stretta tutte le mie riviste che sono proprio dei tesori ma non non mi piace più poi ho lavorato molto anche sugli schemi di Susanna che faceva ai tempi dei bellissimi schemi poi non so se c'è ancora forse Susanna esce ancora in edicola non lo so più e poi ci sono state tante creatrici tante designer italiane e straniere che mi hanno sempre affascinato una delle mie preferite è lei è Laura adesso mi sono segnata il suo nome perché io la conosco da tanti anni l'ho seguita proprio dal suo primo ricamo è Laura Rimoli che in arte è The Little Stickers e lei fa degli schemi che sono veramente di mio gusto nel mio stile molto belli legati alla natura legati alla stagionalità mi piacciono davvero tantissimi e nonostante le centinaia di schemi che io ho mi sono regalata questo piccolo sal mini sal che sono quattro ricami per ogni stagione e ho finito il primo uccellino allora questa è la copertina del sal e questo è il primo uccellino che io ho finito eccolo qua mi piace tantissimo soprattutto i colori poi ho voluto cambiare e impreziosire con delle perline color madreperla che avevo al posto dei piccoli puntini a punto croce c'è anche un errore in questo schema come in tutti gli schemi che faccio che sta a significare che io sono la Eli disordinata e creativa c'è un errore nel senso che c'è il salto di un punto che non ho fatto ma vabbè voi non lo vedete e sfido chiunque a trovarlo ecco qua questo è il primo ricamo che ho finito ho già iniziato anche il secondo che sarà un uccellino estivo sui toni non ho il colore poi vi metterò nell'info box il link per andare a vederlo sulla pagina instagram di Laura che è però su tutti questi toni molto estivi questo color senape questo terra di siena bruciato questo verde prato il marrone qui il bianco che non c'è più che sono andata a ricomprare perché con tutti i colori di mc io uso solo il filato di mc che ho perché ho cinque scatole porta porta filato non c'era questo colore tra i miei colori e se fosse stata se fosse stato tanti anni fa sarei uscita di corsa a comprarlo non avrei utilizzato un colore sostitutivo che magari gli assomigliava adesso come adesso perché avevo già cominciato mi mancava proprio questo bianco e non potevo farlo di un colore diverso se non avessi cominciato con il bianco avrei tranquillamente utilizzato un colore molto simile che ho sicuramente tra le centinaia di matassine che ho nelle mie scatole e quindi nulla sono ritornata al punto croce mi piace davvero tantissimo mi dà un'enorme soddisfazione e tra tutti gli hobby che io ho avuto questo è stato davvero il mio primo amore al quale sono contentissima di essere ritornata ecco qua ho iniziato ma proprio da pochissimo il secondo schema sono quattro caselline con dentro lucellini non l'ho confezionato perché ho un'idea di confezionamento vorrei fare dei cuscinetti da attaccare su quelle ghirlande di vite con un piccolo pezzettino di velcro in modo da poter intercambiare i cuscinetti a mio piacere spero di riuscire a portare a termine questa mia idea sicuramente finiremo poi a dicembre e pian piano li confezionerò sono molto contenta e soddisfatta perché davvero il punto croce mi dà una gioia immensa poi passiamo adesso a un altro argomento che è sempre punto croce ma è come archiviare i lavori allora io ho veramente trovato ispirazione da un blog che ho scoperto un blog scusate parla di blog ma i blog quasi non esistono più da un canale youtube che ho scoperto per caso veramente per caso ed è il canale adesso ve lo dico di Ilaria Ilaria con fili dal tempo è un canale molto piccolo che ho scoperto proprio grazie alle anteprime di youtube questa ragazza parla di punto croce di ricamo di ricamo storico e tra le sue puntate ce n'era una dove parlava dell'organizzazione del lavoro e io in quasi 40 anni di ricamo a punto croce non c'ero mai arrivata di organizzare i miei ricami in bustine di plastica di stoffa come volete voi io mettevo tutto all'aria infusa in alcune scatole che avevo poi non trovavo più i fili proprio sono disordinata su queste cose non trovavo i fili poi prendevo un filo da un ricamo e poi lo mettevo in un altro ricamo e poi non mi ricordavo più se ce l'avevo oppure no insomma e seguendo la sua puntata mi sono detta ma sai che mi ha dato veramente un'idea geniale grazie Ilaria per la tua puntata e per tutti i consigli che hai dato in quella puntata e così mi sono organizzata quindi in una carpettina in una cartellina di plastica ma vi ripeto le potete fare anche di stoffa cucite perché no potrebbe essere un'idea anche di cucito ripongo il mio schema la mia tela tutto quello che mi occorre in modo che se poi vado anche in giro ho tutto bene archiviato lei poi è bravissima e si è scritta il nome del dello schema i fili che ha usato ecco io a quello non ci sono ancora arrivata però quantomeno qui dentro ho fatto così chiusa e qui dentro ho tutto il mio ricamo a portata di mano sono contentissima di queste piccole cartellettine che ho comprato su Amazon anche di plastica mi piacciono perché tengono lontano la polvere e poi sicuramente magari si macchia con qualcosa invece sulla plastica tutto va via e vi devo dire che sono molto 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 soddisfatta vi faccio vedere come si portano questi occhiali fantasmagorici che dovete mettere solo quando siete seduti e fermi altrimenti vi viene la nausea vedete così vedo anche meglio vedo anche la telecamera poi quando non vi servono che vi dovete alzare altrimenti cadete perché vi ondeggia tutto vi viene proprio la nausea li alzate lo so sembra un po' una deficiente però questa è la tecnica che mi permette di ricamare e poi li abbassate e continuate a ricamare tenendo fisso lo sguardo e adesso li stacchiamo bene un altro canale molto interessante di punto croce ve li dico perché secondo me sono dei piccoli canali ma sono dei canali un po' di nicchia che per chi come noi come me ama la creatività è un peccato perdersi ve l'avevo già menzionato il canale di Francesca Francesca è una ragazza che ama molto il punto croce ma è bravissima anche nel cucito è bravissima anche nella nella maglia e davvero nei suoi video si vede un'eleganza una raffinatezza una cura del dettaglio una bravura ed è veramente piacevolissimo ascoltare e seguire quindi ve la menziono poi come sempre vi lascio tutto nell'info box perché secondo me sono dei canali creativi che vale la pena seguire hanno pochi iscritti è gente come me che non non interessa il successo del canale non gli interessano gli iscritti è vero se ci sono fanno davvero molto piacere però questo non è il nostro lavoro questo è un come dire un mix di contenuti che noi condividiamo con voi perché ci piace perché ci piacciono le cose belle perché ci piace poter così evadere dalla nostra routine dai nostri problemi dalla nostra vita quotidiana con delle cose belle che ci fanno piacere che può essere il ricamo che può essere la maglia che può essere la lettura sto leggendo un sacco che può essere perché no il profumo ne sto utilizzando tanti ma poi ve ne parlerò state tranquilli cioè arriva tutto arriva tutto ma con i miei tempi con i miei tempi che poi sono legati anche a tutte le esperienze che ci saranno quest'estate quindi ci sarò e non ci sarò poi sicuramente verso l'autunno e l'inverno il ritmo riprende e sarà sicuramente così magari un po' più intenso ma magari non è detto perché poi se uno si dedica tanto alla creatività un conto è parlare di un profumo un conto è parlare di un siero un conto è parlare di prodotti finiti e un conto invece è parlare di una copertina di un maglione di un ricamo ci sono dei tempi e se uno sta ricamando lavorando a maglia o lavorando all'uncinetto non riesce a dedicare altro tempo per fare le altre cose che gli piacciono poi sempre parlando non ve l'ho menzionata prima parlando dell'uncinetto ma la mia amica Marina del canale Urban Crochet merita di essere seguita perché oltre al suo canale dove ci sono tanti progetti dove ci sono dei tutorial dove lei fa un uncinetto un po' alternativo o meglio quell'uncinetto che viene applicato per maglioni sciarpe cappelli per indumenti che assomiglia molto alla maglia cioè l'effetto che voi avete non è l'effetto di un lavoro fatto all'uncinetto tradizionale ma ha questa tipologia ed è uscita con un podcast io non sapevo neanche che su youtube si potessero fare dei podcast lei è uscita con il primo podcast dove parte da zero dove ci racconta con una voce davvero bellissima rilassante che è piacevolissima da ascoltare la sua esperienza con il crochet con l'uncinetto partendo da che cosa? partendo da una catenella è quasi una poesia questo podcast e io veramente ve lo consiglio come consiglierei un'amica vera che ho qui vicino di casa io sono molto amica di Marina anche se non ci conosciamo fisicamente anche se siamo lontane a volte anche dai social io tante volte non vado sui suoi canali e lei non viene da me ma tutto questo non vuol dire che non ci usmiamo come si dice anzi ognuno segue le sue passioni ma quando si ritorna sul suo canale quando la si ascolta raccontare è veramente una gioia immensa e può farci solo bene queste persone che ci circondano che condividono il bello ci fanno soltanto bene le nostre brutture le abbiamo già fuori dalla porta tutti tutti anche se non le riconosciamo e quindi vi consiglio il podcast ed il canale youtube di marina urban crochet mi raccomando andate a seguirla perché è un peccato perdersela sto ritornando anche al cucito anche se qui non avete visto nulla di cucito ma sto seguendo delle lezioni online quindi ci vuole un po' di tempo perché devo studiare capire riprendere in mano la macchina da cucire e sia per il cucito che per la maglia vi consiglio ancora un canale che avevo consigliato tantissimo tempo fa sempre un canale piccolino sempre di ragazze come noi ma questa è veramente una ragazza perché è giovanissima ed è il canale di Michela che si chiama apples and traits spero di averlo detto giusto sicuramente non l'avrò detto giusto ma poi ve lo lascio scritto sotto Michela è una giovane mamma che penso in questi giorni abbia avuto il suo secondo bebè il suo secondo bambino un maschietto che ha un'arte nelle mani sia nel fare la maglia ma soprattutto nel cucito lei è bravissima realizza degli abiti per sé e per i suoi bambini stupendi stupendi e anche questo è un canale che vi consiglio perché è bello sapere che comunque la creatività del fare maglia del fare l'uncinetto del cucire è anche un'arte che apprezzano le ragazze giovani si sente sempre parlare di arti manuali e si pensa sempre che chi si dedica a queste cose abbia una certa età non è vero non è vero ragazze giovani che vogliono imparare a fare l'uncinetto che vogliono imparare a cucire che vogliono imparare a lavorare a maglia per diletto per sé stessi per creare degli abiti o degli indumenti per la loro famiglia ci sono ancora e questa cosa per me è davvero bellissima è proprio un passaparola che continua di generazione in generazione quindi la creatività non ha età la creatività non ha limiti ho parlato anche fin troppo adesso vi faccio vedere i miei probabilmente progetti futuri del punto croce allora punto croce e non solo punto croce perché come vi ho detto io amo anche il ricamo classico e mi sono acquistata degli schemi questo è addirittura un kit non ve lo leggo perché il francese non lo so ve lo lascio qua e poi ve lo riporto sotto è un kit eccolo qui con un semplicissimo ricamo io l'ho comprato da questo sito che seguo da anni che è una croce penso si dica in italiano il tempo di un tè ma è detto in francese e questo è un kit di ricamo classico guardate addirittura la cura di questa bustina e qui mi sono voluta regalare questo kit allora il ricamo è davvero molto molto semplice ve lo faccio vedere molto velocemente ok è semplicissimo qui dietro sono spiegati i punti utilizzati e all'interno del kit ci sono già i colori e la stoffa da utilizzare questi sono i colori utilizzati eccoli qui e questa è la stoffettina all'interno c'è anche l'ago aspettate ecco qua l'ago però ecco è un po' arrugginito quindi babini lo cambieremo per fortuna che l'ha messo sul bordo che poi andrà cucito adesso questo lo butto addirittura via perché è proprio arrugginito va bene è un lino candido bianco vedete ha lasciato il segno sulla cosa ma poco importa perché poi lì andrà cucito e questo è uno dei prossimi lavori che mi piacerebbe fare non so quando non so come poi altro lavoro che mi piacerebbe realizzare sempre di questa disegnatrice designer francese che io amo tantissimo adesso ve li tolgo dalla bustina perché sennò c'è il riflesso e non lo vedete ecco qua questo non hanno un nome hanno un un numero questo è il ricamo questo o questo e adesso vi dico perché o o perché ho questa tovaglietta da te che abbiamo comprato in comunità ognuno in un colore diverso con le amiche del gruppo del venerdì del ricamo che poi è il gruppo del venerdì del ricamo ma ci troviamo e chi ricama chi fa l'uncinetto chi fa la maglia come me e quant'altro abbiamo comprato tutte guardate che bella riesci a vedere i colori eccola lì questa tovaglietta da te io l'ho comprata rosa e mi sembra perfetta per questo schema è una tovaglietta di lino che abbiamo comprato sul telaio povolaro mi pare con le righe rosa e secondo me ho questa ghirlanda al centro o questa ghirlanda a stella potrebbe essere l'ideale adesso vedrò e poi sempre per il punto croce questo schema io adoro Mary Poppins ok questo è uno degli schemi che mi piace di più di lili violetta e quando ero andata a fili senza tempo avevo comprato questa stoffa di lino grezzo e mi sembra perfetta per farci una borsa con questo ricamo che ne dite vediamo cosa poi altro schema che vorrei realizzare comunque non tutto ma magari in parte sono sempre gli schemi di The Little Stickers che io amo e penso di averli comprati tutti su questi faccio collezione perché non vorrei mai che poi non ci siano più sono schemi che comunque voi comprate su Etsy e potete scaricare in pdf anche questo l'ho comprato su Etsy dalla designer e poi l'ho scaricato in pdf che trovo molto comodo perché fino a quando non ci servono noi li abbiamo in archivio e poi li possiamo stampare ingrandire insomma come vogliamo noi e questo è l'altro è bellissimo e mi piacciono soprattutto i suoi schemi perché danno sempre la possibilità di fare dei piccoli lavoretti che è quello che ricerco io nel punto croce iniziare e poi finire bravissime tutte queste designer italiane poi ho scoperto anche i crocetti a gogo che non conoscevo e ho anche lì qualche schema poi vabbè sempre madame chantilly sì madame chantilly vabbè nei suoi schemi ne ho tantissimi e poi chi c'è ancora cuore batticuore insomma se non vogliamo andare all'estero abbiamo delle designer davvero eccezionali eccezionali italiane e io queste le apprezzo le amo tutte non so che ora abbiamo fatto vi ho fatto vedere un po' di queste cose non so se riuscirò a fare entro venerdì prossimo venerdì partirò per il campeggio staremo via una settimana un altro video ma ho deciso davvero di prendermi il mio tempo il mio tempo perché ho passato un anno molto impegnativo a settembre la mia mamma farà un anno dal giorno a cui ha preso l'ictus e le cose sono davvero cambiate sono cambiate per lei ma sono cambiate anche per noi e per me e quindi ho deciso di seguire il mio cuore di fare quello che mi piace quando mi piace e con i miei tempi e ho bisogno soprattutto di riposarmi e di ricaricarmi la creatività dal punto di vista del ricaricarmi mi aiuta tantissimo ma mi piace anche passare il tempo con gli amici mi piace darmi la possibilità comunque di mettermi a servizio della mia parrocchia fin quando potrò fin quando riuscirò in base a quelle che sono le mie difficoltà e in base anche agli impegni che ho relativi alla mia famiglia tutta e quindi ecco diciamo che è un'estate un po' che serve come ricarica fisica spirituale e mentale e perché no anche avere del tempo per la spiritualità perché senza quella probabilmente alcuni momenti li avrei vissuti in maniera diversa così invece sono riuscita ad arrivare fino a qui ecco niente quindi io vi auguro un buon proseguimento spero magari di riuscire a fare un piccolo video prima di partire ma non ne sono sicura ci vedremo sicuramente al mio ritorno dalle vacanze se qualcuno di voi invece partirà auguro a tutti voi un buon proseguimento di estate e di vacanze non c'è bisogno di andare in capo al mondo sappiate che davvero alcune volte mentalmente bisogna essere capaci di staccare quindi già il fatto di non dover andare in ufficio di non fare determinate cose di non avere la solita routine cambia un po' il nostro modo di approcciarci alla vita e quindi ci fa ci fa bene anche quello se poi avete l'opportunità e l'occasione e la possibilità di andare veramente via da casa di regalarvi qualche giorno in montagna al mare in collina dove volete voi sicuramente l'anima e lo spirito e il corpo staranno sicuramente meglio quindi niente ci rivediamo probabilmente al mio ritorno del campeggio spero di così avervi tenuto compagnia con tutte le mie creazioni e buona creatività a tutti buona estate e ci rivediamo presto un bacione a tutti e grazie ciao